Il nuovo ministero dell'innovazione tecnologica e il ministero dell'innovazione tecnologica e il ministero dell'innovazione. Mi avete chiesto che cosa farà il nuovo ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale. Con l'insediamento del governo Draghi in Italia all'avvio del Next Generation U sembra che l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ci faranno finalmente vivere meglio. Abbiamo tutti avuto questa sensazione che tutto sarà più facile in futuro e saremo finalmente una società più pulita e più progredita. Quindi possiamo immaginare che finalmente ci dimenticheremo di quell'Italia un po' arretrata, un po' mafiosa, sempre in ritardo, che non paga le tasse, piena di fannulloni e con poco wifi. Ci sentiremo forse finalmente a proprio agio, arrivando silenziosamente con auto elettriche in palazzi immersi in un fantastico verde, sicuri dei nostri dottorati, di aver fatto un sacco di ricerca, introducendoci in riunioni silenziose, in stanze luminose dove si entra tranquilli appena dopo aver fatto il riconoscimento facciale, controllando magari il nostro orologio biometrico per verificare se abbiamo consumato troppa energia rispetto a quella che ci spetta. Bene, quindi possiamo ringraziare Super Mario e non vediamo l'ora. Ho giocato un po' su questo scenario per dire che secondo me questa narrazione è forte, è forte e quindi è anche pericolosa. Perché è pericolosa? Perché oppone uno stereotipo, quello dell'Italia che non funziona, a un altro stereotipo che è forte ma che in realtà è distante dalla politica e dalla realtà che stiamo vivendo. E qual è questa realtà? Secondo me dobbiamo partire dal fatto che di innovazione tecnologica e digitalizzazione ne abbiamo già affrontata tanta e che quindi è un po' semplicistico affrontare questi argomenti semplicemente con un'attitudine solo tecno-ottimista, come se fosse tutto qualcosa di nuovo. In realtà i millennials, quello che noi chiamiamo millennials, sono cresciuti all'interno della digitalizzazione, sono cresciuti all'interno delle piattaforme digitali e i millennials nel 2021 non sono bambini, sono adulti, sono voti ormai e sono cresciuti proprio in questo modello che abbiamo importato dalla Silicon Valley e dalla California. Forse quindi il dibattito politico dei prossimi mesi, visto anche l'arrivo di questo Next Generation U e quindi una prevedibile accelerazione di investimenti nel digitale, dovrebbe forse alzarsi un po' di livello, considerare che la questione è proprio questa qui. e quindi io partirei da una domanda, che cosa abbiamo imparato negli ultimi dieci anni di transizione digitale dopo la creazione di piattaforme come Google, Amazon, Facebook, Apple e una infinità di più piccole come Uber, Deliveroo, Zoom, Skype, Airbnb, Spotify e che più ne ha più ne metta. Allora, una prima cosa che mi pare incontestabile sul medio e lungo periodo è che tutte queste accumulano molti profitti, molto più delle aziende tradizionali. Anche sotto la pandemia credo che sia noto a tutti come le piattaforme digitali hanno guadagnato molto di più e in modo monopolistico. Oltretutto queste piattaforme di solito eludono il fisco, cioè non pagano le tasse, insomma contribuiscono molto poco alle casse degli stati. Poi, in secondo luogo, l'automazione e quindi vivere all'interno di un processo di digitalizzazione fa aumentare molto le disuguaglianze. Chi guadagna bene sono i managers e i creativi di alta fascia. Rispetto a un'azienda tradizionale i team dirigenziali sono composti da poche persone se paragonato al radicamento praticamente globale che ciascuna di queste piattaforme ha. Queste posizioni sono le uniche a percepire un reddito alto, consistenza. In terzo luogo, una produzione altamente automatizzata crea disoccupazione. Una disoccupazione che ormai stiamo vedendo cronica e laddove si creano questi cosiddetti nuovi posti di lavoro abbiamo già visto che godono di pessime condizioni lavorative. Dietro a una app, ormai sappiamo in tanti e tante, che molto spesso ci sono persone con salari da fame che sono addette alla manutenzione, per esempio, di questi software, un apparato hardware, quello che abbiamo chiamato in molti contesti i turchi meccanici, cioè uomini nascosti e non visibili, invisibilizzati dietro alle macchine. Pensiamo, per esempio, alle lotte e a quello che è successo negli ultimi cinque anni nell'ambito dei riders, per esempio, di chi sta vivendo all'interno di queste app, però molto materialmente facendosi carico di come la logistica e le consegne, per esempio, a domicilio hanno cambiato il mercato del lavoro. Per non parlare poi di ambienti ancora più aberranti come sono i lavoratori che allenano le intelligenze artificiali nel sud-est asiatico. In quarto luogo e ultimo punto, io direi che la digitalizzazione e la computazione delle nostre vite aumenta quello che abbiamo chiamato la polarizzazione della politica e la manipolazione dei comportamenti. Abbiamo già visto come si è aumentata la dipendenza a stare nella infosfera o sempre connessi praticamente 24 ore su 24, di come si perda il contatto con la realtà. La realtà coincide sempre di più con ciò che pensa la propria bolla, la mia bolla. I soggetti privati che detengono il monopolio sulla gestione di questi dati possono sempre di più controllare e determinare i nostri comportamenti. Questo lo sanno molto bene. Su questo si basano i loro business plan e i loro piani di sviluppo. Quindi l'innovazione tecnologica significa per chiunque sia all'interno di questo settore il controllo dei dati. E il controllo dei dati significa mercato, sorveglianza sociale e potere politico centralizzato in mano al privato. Queste cose in realtà ci siamo trovati nelle università a insegnarle da almeno dieci anni. Quindi io sono abbastanza sorpreso se in questo momento si entra nel dibattito politico pensando che questa innovazione digitale, questa presenza più massiccia delle nuove tecnologie sia presentata come una novità. Noi abbiamo già vissuto molte di queste dinamiche. Quindi si tratterebbe di capire adesso nel dibattito politico che cosa vuol dire continuare in questa direzione. Ma per l'agenda neoliberale, cioè quando dietro alla transizione digitale ci sta dietro un'agenda neoliberale investire nel digitale significa privatizzare i servizi creando enormi profitti per alcune imprese del settore impoverire il welfare pubblico perché non c'è gettito fiscale distribuire sempre meno risorse attraverso il lavoro che diventa sempre più fessibile e precario e infine dare a queste imprese il potere della sorveglianza sociale. Questo è il tema che dovremmo affrontare sempre di più nei prossimi mesi. Per esempio suppongo che questo sia il proprio il programma del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale Vittorio Colau perché questo è il programma dell'impresa per cui questa persona lavorava prima di diventare ministro. Questa impresa si chiama la McKenzie & Company che praticamente negli Stati Uniti è proprio la scuola di pensiero statunitense di tanti neoliberali tecno-optimisti che vengono assunti per privatizzare i servizi pubblici e dalle pubbliche amministrazioni a favore di queste big company del tecno. Quindi un altro esempio, questo è forse il motivo per cui una economista in gamba neppure particolarmente di sinistra radicale come Mariana Mazzucato se ne è andata sbattendo la porta dalla tax force diretta proprio da Vittorio Colau sotto l'ultimo governo Conte. Vi faccio un ultimo esempio. All'inizio di questo anno scolastico su molti diari di bambini e bambine in Italia è arrivata la richiesta di consenso per l'adozione dello strumento Classroom di Google come stanza per condurre le lezioni e gestire a distanza la formazione degli alunni e delle alunne. Un altro esempio di come la scuola, il servizio pubblico, sta silenziosamente appaltando o promuovendo Google come la piattaforma in cui far passare tutti i dati e le informazioni dell'apprendimento dei bambini. Ecco, questi sono i campi secondo me di battaglia molto concreti e quello che ha annunciato il governo Draghi è l'apertura di un percorso dove questi esempi sono solo l'inizio e facilmente la privatizzazione dei servizi attraverso le piattaforme digitali sarà la prateria su cui si svilupperanno.